Era uno che guardava, interiorizzava e poi, e questo è il segno dell'artista, non si limitava a riprodurre la realtà, per esempio le immagini che poteva trovare nelle figurine liebigo, nei manuali zoologia, ma le trasfigurava. La natura in un qualche modo ha un'anima e si fa coinvolgere da quello che avviene. Al maschio angioino dall'11 ottobre al 28 gennaio sarà ospitata alla mostra Antonio Ligabue, una retrospettiva con oltre 80 opere dell'artista emiliano dagli anni 20 fino al 1962. Più volte ricoverato in manicomio, dileggiato ed emarginato in vita per i suoi atteggiamenti fuori dalla norma, Ligabue dipinse il conflitto, lo spasimo, la violenza ferina, la sopraffazione bestiale e poi una lunga celebre serie di autoritratti per fissare sulla tela le trasformazioni del suo stesso volto. Nel 1961 tutti i giornalisti, mi ricordo, scopersero, adottarono un titolo nuovo questo personaggio dicendo è scoppiato il caso Ligabue. Ecco io parto da lì, da questo caso Ligabue che va avanti, che parte come pittore primitivo, ingenuo, dicevano a Naif una volta, vedendo la mostra. Vedete questo curriculum, questa evoluzione che c'è e estetica e cronologica e pittorica attraverso anche i valori tonali che da una fase iniziale un po' incerta, un po' dubbia, man mano cresce proprio perché si documenta e studia e va avanti. L'elegante allestimento della mostra nella cappella palatina del castello presenta oltre alla pittura anche sculture e disegni e un raro e prezioso filmato con immagini d'epoca di Ligabue. Una personalità straordinaria, sconvolgente, con una storia che sicuramente interroga, pone domande e attraverso la sua biografia, ma attraverso la sua produzione artistica ci interroga e appunto ci invita a riflettere nel profondo sulla condizione umana e anche sulla funzione dell'arte. Credo che sia un caso che Ligabue sia anche popolare, cioè nel senso che sia un pittore, una storia, una biografia che va oltre quelli che sono i confini tradizionali degli esperti, dei critici, diciamo, di un certo mondo a volte un po' chiuso in se stesso. Quindi mi sembrava molto bello ospitare questa mostra e farlo qui nel Maschio Angioino, che è un po' emblema della vita culturale di Napoli ed è un posto frequentato dalla cittadinanza in generale, oltre che da tanti visitatori. Quindi sono due fatti culturali che si valorizzano reciprocamente. Grazie a tutti.